Adesso qualcosa di positivo ce l'abbiamo ricaspato. Noi siamo contenti di passare ai nostri collaboratori per che questa manifestazione sia bella, efficace e noi daremo la massima disponibilità. Sappiamo che le quattro formazioni rimangono qui in una settimana, siamo distribuiti in vari campi per gli allenamenti. La Nazionale Italiana ha scelto come casa di allenamento lo Stagio Piani, questa è un'altra cosa importante, secondo me, da dire. Allo Stagio Piani ci saranno tre partite, due della Nazionale Italiana e una fra la scienza di Israele e di Sembra. Mi auguro che sia un successo per la nostra Nazionale che si qualifici per questi europei, per la tanto tempo che aspettiamo. Credo che, suggerisco, diciamo, e auspico che sia una grande presenza anche dei pubblici, visto che ha fatto la faccio, è una cosa importante. Facciamolo vedere anche a livello internazionale. Grazie. Grazie.